Nella notte tra mercoledì e giovedì un intervento tempestivo dei soccorsi ha salvato la vita un bambino di tre anni a Marina di Camerota. Il piccolo, trovato in arresto respiratorio in un'abitazione vicino a Piazza San Domenico, presentava cianosi e assenza di parametri vitali. Immediatamente allertati, i soccorritori della Croce Gialla di Camerota sono arrivati tempestivamente sul posto. A loro arrivo, il bambino era in condizioni critiche, con cianosi periferiche e braticardia evidente. Dopo averlo caricato in ambulanza, il team ha iniziato a somministrare i farmaci necessari per stabilizzare il piccolo. Durante il trasporto, l'ambulanza è stata raggiunta da un medico della centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania, al bivio di Poderia, sulla superstrada cilentana. Grazie alla prontezza e alla competenza del personale della Croce Gialla del 118, il bambino è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in condizioni migliorate e con un'ossigenazione ottimale già vicino al 100%. Questo episodio, ancora una volta, evidenzia l'importanza cruciale dei servizi di emergenza e della loro preparazione nel gestire situazioni delicate, soprattutto quando si tratta di bambini.